Sono stata eletta al Senato con il terzo polo insieme al gruppo di azione Italia Viva, è un progetto su cui ho scommesso, era difficile per nulla scontato, però insomma sono felice, doppiamente felice del risultato, avrò la possibilità sicuramente di continuare un lavoro avviato qui alla Camera, proprio sulle tematiche per le quali mi sono sempre spesa, lo sport, la disabilità, le pare opportunità, i giovani, il lavoro, le donne, e molto altro, insomma sono dispiaciuta di vedere fuori delle persone meritevoli che potevano veramente dare un grande contributo, ma questo è anche un po' il prezzo che paghiamo di questa campagna elettorale veloce, di una legge elettorale non aggiornata e del taglio ai parlamentari. Con lo stesso senso di responsabilità e di serietà che mi ha guidato in questi anni alla Camera, cercherò di continuare a dare il mio contributo per una giusta causa anche al Senato. Grazie per la visione!